Qualche giorno fa parlando con un mio amico è uscito fuori il discorso che per un po' di tempo non ho fatto video su YouTube per una serie di motivazioni che un po' vi ho spiegato anche nel video del mio palese ritorno Ebbene, insieme a questo mio amico, intraprendendo per l'appunto questo discorso è uscito fuori il perché non ho festeggiato con voi iscritti con voi persone che mi avete continuato a seguire per tanto tempo anche nonostante quindi la mia lunga, lunga assenza e giustamente lui aveva ragione in qualche modo dovevo far sì che questo grande ritorno, tra virgolette grande fosse un po' più coinvolgente anche con voi iscritti e dunque ho deciso di fare questo giveaway chi non sapesse cos'è è praticamente un vero e proprio regalo che voglio fare ad uno di voi che vi permetterà in questo giveaway di ottenere questo questo è un power bank, un power bank di OK che ha due ingressi USB uno addirittura a ricarica molto rapida, ultra rapida quindi supporta anche i dispositivi a ricarica veloce e ha anche una bellissima torcia che si può accendere all'interno per l'appunto del power bank stesso il power bank ha una capienza di 16.000 mAh e di conseguenza può ricaricare anche un computer addirittura bene la cosa fondamentale è che questo è diciamo un giveaway di prova e di conseguenza metterò in palio questo oggetto per vedere un po' anche voi pubblico come rispondete a questo giveaway ma ovviamente se la cosa vi può interessare, vi piace, magari me lo fate sapere qui nei commenti lasciando un bel like al video, non so, fate voi posso continuare a fare video di questo genere ebbene, come si partecipa a questo concorso per vincere a questo power bank che è al costo circa di 20 euro online vi arriverà invece comodamente a casa a spese di spedizione via molto semplice dovete condividere il canale youtube mio sulla vostra pagina facebook e lasciare lì almeno il link di condivisione per almeno 24 ore dopo aver fatto ciò fate un bello screen alla condivisione del canale sopra al quale va aggiunta una vostra considerazione personale di questo canale una volta fatto questo e quindi una volta fatto un bello screen del post con in evidenza il numero delle ore che è rimasto online sulla vostra pagina facebook venite o sulla mia pagina facebook personale ed inviate in privato per l'appunto il post, lo screenshot che avete fatto al post stesso oppure ho creato un canale telegram che sarà guidato da un bot fatto da me e che lascerò il link di invito a questo gruppo in descrizione in questo gruppo ovviamente non parleremo soltanto di giveaway ma possiamo interagire tutti come una grandissima community ovviamente ci sono anche io nel gruppo telegram e ognuno di voi entrerà a far parte di questa famiglia che per l'appunto ci permetterà di scambiare news, informazioni, contatti tra di noi in maniera molto molto rapida più rapida di facebook nel contempo però lì col bot potete praticamente venire su quel gruppo telegram inviarmi il bot che in automatico andrà a salvare in una lista tutti i vostri nomi con i vostri screenshot fatto ciò, quindi più automatico, più automatizzato di facebook ve lo consiglio il link è qui in descrizione per chi avesse telegram dopo aver fatto ciò con molta semplicità tra dieci giorni sì esatto tra dieci giorni nel video di giovedì non questo, l'altro farò una piccola diretta in cui estrarò un candidato un vincitore per l'appunto tra i tanti che possono partecipare ovviamente questa estrazione andrà fatta nel momento in cui almeno 20 di voi faranno questo posting su facebook ma avete 9 giorni di tempo sbarra 10 per farlo di conseguenza penso che almeno 20 di voi lo faranno e lo spero avrete per l'appunto questo powerbank gratis e a casa vostra molto bene questo video non va a sostituire ovviamente quello che è lo scopo informativo del canale perché domani sarà online un altro video si tornerà al regime e domenica ancora un altro video quindi ragazzi mi raccomando seguitemi e fatemi sapere di quest'idea se partecipate con un bel commento qui sotto e ovviamente aspetto i vostri post dopo 24 ore me lo dovete inviare mi raccomando non appena lo postate ciao ragazzi a domani